Il corpo e le sue storie. Cominciamo! Il politicamente corretto arriva anche nella fabbrica di cioccolato, la famosa opera di Dahl, da cui sono stati tratti numerosi film e adattamenti. Alcune indiscrezioni hanno lasciato intendere la volontà dell'editore Penguin di eliminare parole e espressioni potenzialmente offensive, come ad esempio vecchio o grasso. Si tratta di un ultimo, in ordine di tempo, tentativo di pulire la letteratura e l'arte da espressioni una volta permesse, ma oggi giudicate non più appropriate, non adeguate alla sensibilità degli individui moderni, comunque non più conformi ai nuovi standard del vivere comune. Dire a una persona che è grassa non è più permesso, è offensivo, varca i limiti del rispetto delle sensibilità dell'altro. Anche se la persona a cui viene rivolto questo attributo è, a tutti gli effetti, senza nessun possibile fraintendimento o peso. Ma perché la parola grasso può essere considerata offensiva? Una possibile risposta può essere ricondotta ai modelli socioculturali che riguardano il nostro corpo, soprattutto nella cultura occidentale, e all'enorme attenzione che le società moderne dedicano al benessere individuale. È diventata quasi una prerogativa del cittadino moderno, come un forte vincolo sociale, quello di doversi impegnare a prendersi cura di se stesso. Il cittadino moderno deve rimanere in forma, deve praticare sport, deve alimentarsi in maniera adeguata, evitando i cibi spazzatura, deve prendersi cura della propria pelle e dei propri capelli, deve dedicare un tempo sufficiente della giornata al riposo e al sonno. Insomma, deve prendersi cura costantemente della propria persona. Ma non lo fa solo per se stesso, lo fa anche in segno di responsabilità collettiva per la società, perché una persona obesa e fuori forma è un costo per la società, in quanto, ad esempio, più soggetto all'insorgenza di malattie problematiche, quali colesterolo, diabete, ipertensione. Puoi mostrare in maniera plastica ed evidente che l'individuo, oltre a non avere interesse per se stesso, non lo ha neanche per gli altri, per il vivere comune. Manca di rispetto a una società che è costretta a doversi far carico della sua vita piena di bagordi e eccessi alimentari. Per giunta, il suo aspetto fisico, chiaramente, non rispecchia i modelli socioculturali dominanti, di corpi ai tanti, prestanti, ben modellati. In questa prospettiva, essere grasso vuol dire realizzare un tripice tradimento verso se stessi, verso la società e verso modelli socioculturali dominanti. Essere accusati di grassezza porta a una serie di attributi di valore. È come essere riconosciuto come un traditore della patria, un menefreghista, un cattivo cittadino, un individuo a cui non interessa affatto se i suoi comportamenti e le sue scelte di vita diventano un costo per gli caldo. Forse è un'accusa troppo grande da rivolgere perfino a un cattivo di una storia o, per evitare di essere censurati, un diversamente buono. Tuttavia, altri attributi che riguardano il corpo di un individuo sono ancora tollerati. È possibile ancora dunque poter descrivere un personaggio o una persona come bassa o tarchiata, oppure è possibile descrivere un nasone o una bocca troppo larga o dei denti a guzzi, perfino dei piedi troppo grandi oppure troppo piccoli. In fondo si tratta di peculiarità a cui non può essere data nessuna responsabilità all'individuo, il quale è costretto a subirle come dono o maledizione della natura. Tutto al più, se c'è qualcuno a cui muovere una qualche forma di accusa, questi devono essere i suoi genitori, i quali hanno trasmesso un patrimonio genetico inappropriato. A loro volta potrebbero però tirarsi fuori da qualsiasi responsabilità risalendo ai nonni e così via indietro di generazioni e generazioni fino al momento in cui qualche avo ha deciso di combinare i propri geni con un partner dal naso troppo pronunciato. È questione di geni insomma, per cui la cosa me la puoi far notare senza che dimenti un'offesa e io ci devo stare, ma essere accusato di grassezza no, non te lo puoi permettere, nessuno può mettere in dubbio il mio amore per la patria.